buongiorno a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo velocissimo video sono qui per aiutarvi nella sfida di oggi settimana numero 5 che dice di potenziare un'arma a borgo bislacco ragazzuoli allora noi ci troviamo già a borgo bislacco che è questo qui vi faccio vedere due metodi velocissimi per fare questa missione il primo prendete un'arma guardate prendo una bianca che almeno è facile e veloce da potenziare vi fate un po di materiale giusto una quantità di youtube 10 10 10 10 di ferro ce l'abbiamo scusate abbiamo 10 mattone adesso andiamo a farci anche 10 di legna presso un alberello e ci dirigiamo in quella casetta marroncino piena di mattoni diciamo ve la faccio vedere bene anche dalla mappa poi ci troviamo ok 10 di legna ce l'abbiamo la casetta in questione è questa qui ragazzi quindi prendete bene in considerazione questa casetta ok ragazzi entrate dall'entrata quella qui quella sotto il porticato e subito troverete la postazione di potenziamento per potenziare l'arma bisognerà semplicemente portare un'arma e potenziare se avete un'arma bianca per potenziarla in verde vi basta 10 di tutto sennò poi diventerà 100 150 e così via quindi io vi consiglio un'arma bianca da portare che è più facile da potenziare e si farà velocemente la sfida il secondo metodo per fare questa sfida è quello di trovare le postazioni di potenziamento portate diciamo per trovarli per vedere come sono queste qua la prendete la portate qui a borgobislacco e la cacciate anche così in mezzo a borgobislacco e da qui poi potenziate l'arma come abbiamo appena fatto quindi questi sono i due metodi principali potrete trovare la postazione di potenziamento per terra diciamo nei cesti nelle varie location portarle qui e potenziarla oppure addirittura potrete che ne so andate a parco distruggete la postazione di potenziamento che trovate nel benzinaio e la portate a borgobislacco e da qui poi la mettete dove volete e potenziate basta che siate all'interno di borgobislacco quindi all'interno della città mi raccomando io spero che il video vi sia stato utile fatemi sapere scusate se siete riusciti a fare la sfida tutte le altre sfide più importanti di questa settimana sono già caricate sul canale vi invito a dargli un'occhiata noi ci vediamo in live su twitch per il guide da un shop buona continuazione a tutti mi raccomando codice creator rollo duke 97 nello shop di forte per supportarmi ciao 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 ciao